Tutto pronto per il sit-in di protesta promosso dalle organizzazioni sindacale per il 15 novembre alle ore 10.30 fino alle ore 12.30 riguardante il Più Europa, l'opera incompiuta al pridosso della stazione ferroviaria di Battipaglia. I rappresentanti dei lavoratori contestano l'amministrazione comunale per il blocco del cantiere di natura misto pubblico privato. L'opera rimasta incompiuta ebbe un costo di 38 milioni di euro. I lavori del centro interscambio modale per il trasporto delle persone dagli autobus ai treni sono fermi da troppo tempo e la zona è nel totale degrado. Durante la realizzazione del Più Europa ci fu lo stop per mesi a causa di un'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Napoli ai danni di un'azienda operante nel cantiere ed oggi non si comprendono ancora le ragioni del blocco. Nel 2018 fu anche battezzato il ponte sui binari dalla stazione ferroviaria dal presidente dell'Aggiunta regionale Vincenzo De Luca e dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, ponte di collegamento tra la strada ferrata e l'aria intermodale. Il progetto prevede un terminal bus con parcheggio interrato, un fabbricato viaggiatori, un potenziamento della viabilità e dei sottoservizi, impianti di videosorveglianza e comunicazione, un parcheggio in piazza ferrovia, l'unica opera sino ad oggi completata e messa in funzione, ed anche la sistemazione del piazzale e la costruzione di un pubblico edificio. Grazie. Grazie.